Decreto sostegni, bene il metodo, ma le risorse per le PMI sono insufficienti. Confartigianato e credit agricole Italia, insieme per la ripresa in chiave sostenibile. Il decreto sostegni taglia gli oneri nella bolletta elettrica delle imprese. Confartigianato moda, sigla accordo con Camera Showroom Milano. Sui ristori alle imprese apprezziamo il metodo applicato dal governo con il superamento del criterio dei codici Ateco, l'attenzione alle piccole imprese con la rimodulazione dell'intensità dei contributi e la rapidità dell'erogazione. Tuttavia va incrementata la quantità di risorse da destinare agli imprenditori, in particolare per i settori più colpiti, dalla moda a legno arredo fino alla filiera del turismo. È questo il commento espresso dal presidente di Confartigianato Marco Granelli sul DL sostegni varato in settimana dal governo Draghi. Arriva da Credita Agricola Italia e Confartigianato una nuova iniziativa a sostegno della ripresa in chiave sostenibile. Roberto Ghisellini, vice direttore generale del gruppo bancario e il nostro presidente Marco Granelli hanno siglato un accordo nazionale che integra le misure straordinarie messe in atto dal governo con le azioni di sostegno attuate da Credita Agricola Italia, mettendo a disposizione delle imprese associate soluzioni finanziarie innovative per gli interventi previsti dal superbonus 110% e dagli altri incentivi introdotti dal decreto rilancio. Il decreto sostegni ha stanziato 600 milioni di euro per tagliare le bollette elettriche delle imprese. Si tratta di uno sconto del 30% sul costo dell'elettricità per la durata di tre mesi dal 1 aprile al 30 giugno. Un intervento che recepisce in parte le sollecitazioni di Confartigianato ad alleggerire la spesa a carico degli imprenditori con riduzioni riguardanti le voci della bolletta riferite al trasporto e gestione del contatore e agli oneri generali di sistema. Confartigianato Moda ha siglato un accordo con Camera Showroom Milano, l'associazione che riunisce i più importanti showroom multi-brand della capitale della moda italiana. La partnership, sottolinea Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda, completa la presenza delle piccole imprese nei momenti e nei luoghi cardine del fashion made in Italy come sfilate, fiere e showroom, riconoscendo alla nostra associazione il ruolo di partner privilegiato per la promozione e la distribuzione nazionale e internazionale dei brand artigiani d'eccellenza. Grazie a tutti per darmi a tutti per degre